Siamo a lungo il Tevere Roma edizione 2015 con uno youtuber italiano molto famoso, Claudio Di Biaggio, con il canale, lo facciamo dire a lui? Non aprite questo tubo, che poi ormai tutti mi conoscono come Claudio, quindi è più facile così. Allora, come mai questo nome? Beh, è nato a caso, cinque anni fa c'avevo bisogno di un nickname, quindi ho mischiato il tubo, un film, non aprite quella porta, insomma, ho mischiato due cose, l'ho creato, ma ripeto, ormai non c'è manco più bisogno di una cosa del genere, vai diretto con il nome Claudio Di Biaggio, la gente, quelli che mi seguono, mi conoscono per questo nome, quindi va bene così, è un nickname. Abbiamo messo 200.000 iscritti, giusto? Sì, dove stanno, non lo so, dove stanno in giro sparsi, alcuni si vedono, alcuni non si vedono, quindi è bella, è bella misteriosa la cosa, so tanti ed è bello, perché comunque negli anni vuol dire che hai lasciato qualcosa nelle persone. Ogni quanto pubblichi video Claudio? Eh, questo è un bel problema, nel senso che dovrei essere più regolare nella pubblicazione, però non è mai facile dovendo lavorare, quindi ci provo, ci provo, a volte sono esplosivo, metto un sacco di video, altre volte sparisco dal web, però poi torno sempre. Tu sei romano? Sì. Eh beh, se sente, no? Tu i veri qui vieni ogni tanto? Eh, qui ci vengo spesso, infatti è una bella cosa mettersi dall'altra parte, insomma, è una bella cosa. Ultima domanda, qual è stato il video che ti ha fatto esplodere, se c'è stato un video in particolare? Il primo, il primo ed è stata una parodia su Twilight, che ancora ricordo con piacere, sono cinque anni fa ed era un video abbastanza stupido, che però ha funzionato bene, quindi quello è stato il primo, sì. Benissimo, grazie e buona serata. Grazie a voi, ciao.